Ciao ragazzi! Ebbene sì, siamo giunti alla fine dell'anno e perciò volevo augurarvi buone feste ed un felice 2022, con la speranza che il Venturo possa darvi tanta felicità a voi e ai vostri cari. Ma sono anche passati circa 2 mesi dall'ultimo video channel recap che ho pubblicato a fine ottobre e quindi volevo approfittarne per raccontarvi un po' tutto quello che ho fatto da allora. Dunque, ci sono stati fondamentalmente due eventi principali. In primis ho avviato lo spostamento di tutti i contenuti videoludici da questo canale al mio secondario, spostamento che diverrà praticamente totale già a partire dal prossimo mese. E poi, sia questo canale che il secondario hanno festeggiato due ottimi traguardi. Abbiamo superato i 17.000 iscritti sul principale ed i 400 sul piccolino dedicato al gaming. Beh, io vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto ed ovviamente la cosa non può che riempirmi di gioia, soprattutto perché penso significhi che siate trovando utili i contenuti che pubblico. Grazie! Nelle ultime 8 settimane, probabilmente complici i recenti annunci in casa Raspberry Pi, ho pesantemente rimesso mano al Pi 4 sul quale ho provato diverse distro nuove o che personalmente non avevo ancora testato. Sono certo che nei prossimi giorni continuerò a smanettarci su, poiché proprio in queste settimane mi è tornata prepotentemente la scimmia di smanettare con le distribuzioni di Linux, tant'è che non escludo nuovi contenuti a tema anche relativamente al mondo PC. Che ne pensate? Tra l'altro è molto probabile che questa voglia di nuovo sia cominciata dopo che ho avuto la possibilità di provare in prima persona il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con un processore M1 Pro, CPU 10-core e GPU 16-core, 1TB di SSD e 16GB di RAM. Che dire, è davvero una bomba, uno shift pazzesco rispetto a qualsiasi altra cosa io abbia provato finora. Ho cercato di metterlo in crisi senza riuscirci, ho provato a renderizzare i video fianco a fianco con il computer con processore Intel di decima generazione che utilizzo quotidianamente e veramente non c'è stato paragone. Non stavano neanche sulla stessa scala, senza contare la fluidità del Mac nel gestire flussi ad alta definizione senza l'uso di proxy o altri barbatrucchi vari. La memoria unificata integrata del MacBook è semplicemente una scheggia, ha sicuramente lo svantaggio di non poter essere sostituita in futuro, ma al contempo offre prestazioni superlative. Personalmente non utilizzavo macOS X dai tempi dei Power PC, stiamo parlando del 2004-2005, quando il sistema ancora si chiamava macOS X, quindi non ho la minima idea di come esso giri su hardware Intel, ma posso assicurarvi che sul chip di Apple tutto fila liscio come l'olio, persino le app compilate per Intel e che devono essere tradotte da rosetta per poter girare sulla famiglia M1, perlomeno quelle che io ho provato, girano egregiamente. Dal punto di vista hardware, il nuovo MacBook Pro è costruito davvero bene, solido, compatto e con la riaggiunta di tante cose che erano state rimosse in passato. Ci sono ad esempio 3 porte Thunderbolt USB 4 di tipo C, peccato manchi una USB di tipo A, e sono tornati persino il lettore SD e la porta HDMI, seppur solamente 2.0. Fa di nuovo capolino anche il connettore MagSafe 3, seppur il computer possa comunque essere caricato tramite una qualsiasi porta USB, e non manca il jack da 3.5 mm per inserire cuffie col filo, con supporto avanzato per modelli ad alta impedenza e che fa anche da ingresso per il microfono. Ah, e parlando di microfoni, quelli integrati sono incredibili, quasi a livello di microfoni esterni professionali. Allo stesso tempo ho trovato davvero impressionanti le casse audio, 6 altoparlanti stereo con woofer e supporto all'audio spaziale e al Dolby Atmos, niente a che vedere con la maggior parte di quelle presenti nella stragrande maggioranza degli altri portatili. La fotocamera integrata è full HD, niente di eclatante, ma non fa neanche schifo come quelle di modelli passati. Il display invece è stupendo, un XDR con risoluzione di 3024x1964 pixel e refresh rate adattivo fino a 120Hz che restituisce colori incredibili fino ad un miliardo ad ampia gamma cromatica e mantenuti fedeli il più possibile grazie alla tecnologia True Tone. Grazie invece all'illuminazione a mini LED, i neri si avvicinano di molto a quelli di un display OLED. Il contrasto è di un milione ad uno, tant'è che utilizzando tema scuro e sfondo nero il fatidico notch che racchiude la webcam e altri sensori semplicemente sparisce. Quello che non mi piace è il fatto che sia lucido. Con i riflessi si comporta sicuramente meglio di altri display lucidi che ho provato in passato, però comunque la differenza rispetto agli opachi che io preferisco si nota. In compenso, sempre il display ha una luminosità altissima con picco di 1600 nit e non dovrebbero esserci problemi ad utilizzarlo all'aperto, anche se personalmente non ho potuto provare. Quello che non mi convince è l'apertura massima un po' limitata. Forse si poteva fare qualcosa di più a riguardo, anche se le cerniere sono davvero solide e precise, e lo schermo può essere aperto con un solo dito. La tastiera è molto comoda, ci si scrive proprio bene ed è retroilluminata con la possibilità di configurarne a piacere la brillantezza. Non manca il sensore di impronte digitali e sono anche tornati i tasti fisici al posto della touch bar. Sembrerà assurdo, ma la cosa che più mi manca in questa tastiera è il tasto DELETE, cosa che per replicarne la funzione forza l'utente all'uso della combinazione di tasti Fn più backspace, il che non è proprio il massimo per chi come me è abituato ad usarlo frequentemente. Relativamente alla batteria, essa dura tantissimo, e la cosa bella è che il sistema operativo non viene minimamente limitato, a meno di non forzarlo manualmente, quando si usa il computer staccato dalla corrente elettrica, neanche quando la carica è molto bassa. Insomma, c'è una batteria ai polimeri di litio da 70Wh che è bella grande in questo piccoletto, e ciò si traduce anche in un maggior peso per il computer stesso. Personalmente lo trovo un plus più che un minus. Secondo me è meglio avere un dispositivo leggermente più spesso e di lunga durata anziché una sottiletta che diventa inutilizzabile dopo poche ore. E tra l'altro, utilizzando un alimentatore da almeno 96W come quello presente in confezione, ma solo se si sceglie il processore M1 Pro con CPU da 10-core in su oppure la M1 Max, si abilita la ricarica rapida che porta la batteria da 0 a 100 in pochissimo tempo. Un'altra cosa che mi ha davvero impressionato è la silenziosità della macchina. Praticamente le ventole non si accendono mai. Credo di non averle mai udite neanche durante l'elaborazione di filmati o l'esecuzione di altri compiti pesanti. Per dire, sul computer che utilizzo tutti i giorni, le ventole sparano al massimo praticamente alla sola apertura del browser web oppure durante l'avvio di task leggermente complessi, come la riproduzione di un video su YouTube in alta definizione, tant'è che è davvero fastidioso utilizzarlo ad esempio di notte o d'estate. Sul MacBook, invece, assolutamente calma piatta, tant'è che verrebbe quasi da pensare che le ventole stesse non siano presenti. Ciò sicuramente dipende dal fatto che il computer non scalda e di conseguenza non si surriscalda praticamente mai. L'ho sentito leggermente tiepido mentre stavo provando l'esportazione di un filmato 4K e nel frattempo stavo provando la carica veloce tramite alimentatore USB-C da 100W. Lato software, che poi è il motivo per cui mi è tornata la scimmia per le varie distribuzioni Linux, macOS ha tanti pregi ma anche dei difetti. Come dicevo poc'anzi, erano circa 15 anni che non toccavo il sistema operativo di Apple, e sono rimasto scioccato nel vedere che, fondamentalmente, a livello core non è che siano stati fatti chissà che stravolgimenti. Forse è proprio questo che i fan della mela apprezzano, ma in ogni caso ho trovato tutta l'interfaccia e l'esperienza d'uso pressoché invariate da allora. Sì, ovviamente sono stati fatti cambiamenti qui e lì, rinfrescate le grafiche, aggiunte nuove funzioni da portate limature o integrate features che un tempo andavano aggiunte manualmente tramite estensioni. Tendenzialmente, però, il sistema è rimasto molto simile a quello che io ricordavo. Dopo tanti e tanti anni di Linux, con cambiamenti radicali anche a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro e con la possibilità di passare tra una distro e un'altra, la cosa mi ha sorpreso molto. Non dico che sia un male, anzi, la tra virgolette staticità di macOS probabilmente è un bene, però davvero mi ha sinceramente colpito. Di fatto, dopo 5 minuti ero di nuovo a casa, una casa di cui mi ricordavo e riconoscevo ogni metro quadrato. Ci sono cose la cui assenza mi sembra incredibile, come l'impossibilità di impostare l'apertura al centro dello schermo per le nuove finestre, alle quali ho dovuto ovviare tramite automator, creando uno script apposito associato a relativa combo di tasti per eseguirlo rapidamente, cosa che allo stesso tempo è una figata ed apre ad un mondo di possibilità se ci si sa mettere le mani. Oppure, il fatto che l'editing dei testi, ha combinazioni di tasti completamente differenti rispetto a quelle tra virgolette standardizzate usate su Windows e ancor di più su Linux. Collegando una tastiera esterna, poi non tutti i tasti presenti vengono riconosciuti e, stranamente, alcune combinazioni degli stessi che funzionano con la tastiera del MacBook poi non vengono accettate quando eseguite sull'altra. Bah, parlando di combinazioni di tasti, macOS è il regno delle scorciatoie. Ci sono shortcut per fare ogni cosa, ma alcune sono incredibilmente contorte come quella per creare rapidamente uno screenshot senza salvarlo su di un file associato e invece renderlo subito disponibile ad essere incollato. Maiusc più Option più Command più 4, in pratica servono due mani per riuscirci. Ovviamente le stesse shortcut possono essere personalizzate, ma alcune di base sono delle scioglidita. Anche navigare sul file system ha combinazioni di tasti completamente differenti da qualsiasi altro OS. Il tasto invio non apre i file, ma permette di rinominarli. Per aprirli occorre digitare Command più giù, il che ha senso se si pensa che premendo Command su si torna alla cartella superiore. È molto più coerente, seppur spiazzante. Così come spiazzanti sono le combinazioni per scrivere le lettere accentate maiuscole almeno rispetto alla semplicità che c'è su Linux. Questi sono solo alcuni esempi, ma le differenze sono praticamente in ogni ambito. Niente a cui non ci si possa abituare, certo, e forse, come detto, a volte le strade scelte per macOS sono anche più comode, razionali o coerenti, ma passare da uno S all'altro fa annodare le dita. Battuta a parte, ci sono delle cose che adoro del sistema operativo di Apple, come le gestures per muoversi rapidamente tra le finestre ed i desktop attivi. Anche il fatto che un'app aperta a tutto schermo venga automaticamente spostata su un nuovo desktop generato al volo non è affatto male, cosicché ci si possa spostare istantaneamente avanti e indietro tra essa e il resto delle app attive. Non ne ho parlato prima appositamente, ma il touchpad è probabilmente il migliore che io abbia mai provato. Super preciso, reattivo, il dito ci scivola sopra che è una bellezza e non solo supporta il multitouch, cosa che consente appunto le varie gestures e le accelerazioni, ma anche il force touch, quindi riconosce diversi livelli di pressione e il click prolungato. Tutte cose che consentono di attivare funzioni secondarie molto utili, ad esempio è possibile selezionare una parola e ricercarne al volo il significato online o la traduzione in altre lingue semplicemente facendo pressione su di essa. Altra cosa che adoro è la gestione delle applicazioni. Le app non sono altro che pacchetti che contengono al loro interno tutte le librerie e le risorse necessarie per funzionare, un po' come gli snap package, i flatpack o le app image su Linux. In questo modo non c'è bisogno di andare a incasinare il sistema con librerie aggiuntive e o creare incompatibilità. Semplicemente posizionando il pacchetto dell'app dove si vuole, solitamente la cartella di sistema applicazioni, l'app sarà subito pronta all'uso. E più versioni della stessa potranno anche coesistere tranquillamente. È una cosa che ho sempre apprezzato tantissimo, l'apprezzavo già 15 anni fa e sono davvero contento che pian pianino essa stia arrivando anche nel mondo del pinguino, probabilmente anche meglio implementata di quanto faccia macOS stesso. È possibile scaricare software da internet e il sistema ci avviserà la prima volta che lo si avvia, oppure può essere gestito più facilmente tramite l'App Store, il quale, come succede sui dispositivi mobili, si occupa di tenere le applicazioni sempre aggiornate all'ultima versione disponibile, cosa chiaramente non vera per quelle scaricate a mano dal web. Con gli ultimi rilasci del sistema operativo, macOS ha integrato dentro il suo App Store anche le app per iOS ed iPadOS. Grazie al fatto che la famiglia di processori M1 è ARM, ora è possibile installare nativamente le app scritte per iPhone ed iPad, il che è fantastico vista la quantità abnorme di software che è stato creato nel tempo per il melafonino. Insomma, seppur macOS non soddisfi sempre appieno le mie esigenze, è sicuramente il sistema operativo che più si avvicina a ciò che funziona meglio per me. Dopo tanti anni ho trovato il mio ottimo nel mondo Linux, ma se dovessi essere costretto a passare a soluzioni commerciali, sicuramente la mia scelta ricadrebbe su macOS. Al di là della UI, che è sicuramente ben studiata, è proprio l'insieme di gestures, scorciatoie, gestione del software e via discorrendo che io apprezzo di più. Oltre ovviamente al fatto che il sistema operativo e l'hardware di Apple vanno a braccetto e tutto funziona più o meno sempre in modo impeccabile. Peccato che al momento non sia praticamente possibile utilizzare una distro Linux con i professori M1, ci stanno lavorando, ad esempio la community di Asai Linux e qualcosa è stato fatto, ma per il momento ci sono ancora grossi limiti e quello che si è ottenuto non può essere utilizzato nel quotidiano. Sono comunque certo che prima o poi si riuscirà a trovare la quadra. Ok, chiusa la mega parentesi sul MacBook Pro e macOS, torniamo a ripercorrere gli ultimi due mesi. Come dicevo, è in corso la transizione dei contenuti videoludici sul mio canale secondario. A parte i video della serie Pensieri, che con molta probabilità resteranno sul canale main, ho completato la mia copertura biennale su Stadia con gli ultimi due focus di novembre e dicembre. Da gennaio 2022 tutti gli eventuali futuri contenuti relativi alla piattaforma gaming in cloud di Google li troverete soltanto sul canale Gameplays. Lì, tra l'altro, ho anche avviato una nuova serie di recensioni in cui troverete le mie considerazioni sui giochi che mi capiterà di provare o altri approfondimenti. Ed ovviamente sto continuando la mia collaborazione con i ragazzi di Stadiaverse.it, grazie alla quale ho recensito altri tre giochi con un quarto video in arrivo a breve. Sempre sul canale secondario non sono mancate innumerevoli prove di nuovi giochi e nonché qualche rapida livestream di test. Parlando di livestream, sono ormai un paio di mesi che ogni mercoledì c'è l'appuntamento fisso sul canale YouTube di Stadiaverse, durante il quale si gioca insieme con chiunque voglia unirsi alla live e finora abbiamo provato diversi titoli multiplayer interessanti. Qualora voleste partecipare, vi aspetto e trovate in descrizione il link al canale YouTube del progetto Stadiaverse.it. Bene, direi che è tutto per questa puntata riepilogativa, l'ultima del 2021. Vi auguro nuovamente tanta felicità per il 2022 e ci sentiamo presto con tanti nuovi contenuti. A presto!